Ciao a tutti, siamo qui su AMF Channel. Ieri sera, in tarda notte, sono partite le nomination e subito ci sono tre nuovi nominati. Ma passiamo subito ai sondaggi, dove si registrano già dei mini colpi di scena. Diciamo subito che Beatrice Luzzi è ancora la preferita, con il 53.1% di votazioni, rimanendo la grandissima preferita del pubblico. Probabilmente si avvicina sempre di più alla vittoria. Con il 26% in seconda posizione troviamo Greia Colmenares, con una buona percentuale. Ma attenzione, perché Sergio è abbastanza vicino, con solo 6 punti percentuali di distanza, con il 20% delle votazioni. Considerando che siamo solo all'inizio, potrebbe ancora esserci un vero colpo di scena. Ancora pochi voti sono stati espressi, quindi potrebbe succedere di tutto. Questa mattina è ancora molto ristretto, quindi sicuramente potrebbe succedere ancora di tutto. Intanto, dopo la lite tra Beatrice e Marco, non c'è stata calma nella casa del grande fratello. Anzi, la situazione sembra ancora molto agitata. Le fazioni sono ben divise e i concorrenti litigano in modo particolare, non sopportandosi più. La condivenza è diventata veramente difficile da accettare per ogni concorrente. Cosa succederà? I primi sondaggi indicano Beatrice, Greia e Sergio nell'ordine in cui li abbiamo appena citati, ma potrebbe ancora cambiare tutto. Cosa ne pensate voi, amici di AMF Channel? Chi vorreste salvare? Lasciate un like, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per non perdere ulteriori aggiornamenti. Grazie per la visione. Grazie per la visione.